Buongiorno a tutti ragazzi, amici del canale di Youtube e a tutti appassionati di campane come me. Questa mattina noi ci troviamo alla chiesa di San Giovanni Battista, quella vicino all'autostrada, non so se la conoscete, a Campi Bisenzio. Abbiamo un concerto di tre meravigliose campane basse ovviamente e adesso per la messa delle 11.30, sempre sperando che suonino, le ascolteremo suonare. Quindi nel frattempo vi faccio vedere, quella di là è la grossa, quella accanto è la mezzana e questa qua è la piccola, va bene? Adesso sempre se suona godetevi la suonata e ci si sente dopo, a dopo! Buongiorno a tutti! 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 Mamma mia che suonata! Mamma mia che suonata ragazzi! Guarda! Vi devo dire che è stata veramente bella! Perché campane da basso! Mi sono dovuto mettere le cuffie perché dava noia! Di fatti ve le consiglio eh! Vi consiglio anche la chiesa se non la conoscete! Veramente belle! E se suona sempre alle 11 e un quarto! Se no pace! E spero che questo video vi sia piaciuto! E ci si sente dopo sempre se suona! Ovviamente a dopo!